Di fronte alla vecchia stazione ferroviaria nella darsena di Viereggio, c'è via Guerrazzi, una strada intrisa di storia e animata da una vivace tradizione carnevalesca. Ogni anno, in occasione del carnevale, questa via si trasforma in un tripudio di colori, allegria e festa. Le case sono addobbate con maschere, bandiere e striscioni che ondeggiano allegri dal tetto fino al suolo, creando un'atmosfera di festa contagiosa. Non è solo una questione estetica, ma anche di orgoglio e senso di comunità. Gli abitanti di Via Guerrazzi si impegnano con passione e dedizione per mantenere viva questa tradizione, celebrando la festa in modo unico e indimenticabile, con una scena collettiva in strada per salutare Burlamacco. Una grandissima festa, come sempre l'abbiamo fatta in questa bellissima città di Viereggio. Noi partecipiamo con la nostra strada e pensiamo di fare un bel carnevale anche. Quest'anno ci siamo un pochino allargati, abbiamo fatto un po' meglio. Via Guerrazzi rappresenta non solo un punto di riferimento storico, ma anche un luogo dove la magia del carnevale prende vita ogni anno, portando gioia e divertimento a tutti coloro che hanno il privilegio di parteciparvi.